parlandoci di una umanità futura il giornale dei misteri don giuseppe gervasini domanda sei stato molto chiaro grazie ricordo che tempo è dietro parlandoci di un'umanità futura in un'altra era avevi detto che non ci sarebbero più state famiglie che forse l'uomo e la donna in grande purezza di sentimenti non avrebbero avuto bisogno di questi legami che ci sarebbe stata un'altra organizzazione sociale don giuseppe noi sappiamo che in una prossima era vi saranno altre regole che governeranno la vita degli uomini e la famiglia non esisterà nel senso che voi intendete ora vi saranno famiglie composte da gruppi di uomini che insieme vivranno nella massima purezza con le loro donne e i loro figli questo oggi appare impensabile nella mente dell'uomo e invece è più che mai vero e più che mai amore autentico noi sappiamo che l'uomo vivrà quest'altro tipo di esperienza avanti negli anni domanda nella massima purezza con le donne e con i figli è una purezza relativa voglio dire ci saranno sempre i soliti rapporti come ci sono attualmente intendo rapporti fisici don giuseppe certamente il rapporto fisico è il rapporto puro quando è fatto per amore nessuno mai ha pensato di dire che non lo sia perché mai l'uomo sarebbe stato formato in questa maniera l'uomo quindi ha un corpo e ogni parte del suo corpo a modo di essere per essere usata e quindi l'amore fisico quando è unito all'amore puro e sereno è sempre un amore accettato e voluto anche da noi con grande gioia l'uomo così impara ad amarsi di più a parlarsi di più a condividere le esperienze della vita insieme a condividere l'amore per i propri figli insieme non conoscerà l'invidia l'avarizia non conoscerà i pettegolezzi o meglio forse li conoscerà ma sicuramente in maniera molto ridotta